Primo forum con la comunità locale del Parco Riserva Naturale di Torre Guaceto. Si è svolto questa mattina nella castella identice di Frasso di Carovigno. Attraverso l'assistenza tecnica di Federparchi, incaricata dalla provincia di Brindisi, nell'ambito di un progetto strategico di cooperazione territoriale europea, Grecia e Italia, gli attori locali, quali imprenditori turistici, associazioni, amministratori locali, hanno potuto prendere visione dei primi passi da compiere per intraprendere questo importante cammino insieme alla riserva per arrivare all'elaborazione di un piano strategico quinquennale che dovrà essere valutato dalla Federazione Europark, coordinatrice dell'iniziativa a livello europeo. Per noi oggi è stata aggiunta un'ulteriore stella su quello che già era la riserva di Torre Guaceto. Da oggi si apre una nuova situazione, con questo chat l'area è stata individuata nelle 160 aree protette europee. Cercheremo di creare un progetto di cooperazione, diciamo, in modo da tenere un po' di più il turista presente sul territorio. Noi sappiamo di certo che i numeri della Puglia sono in crescita. L'unico problema è che non riusciamo ad avere un flusso turistico tutto l'anno. Dunque è quello che cercheremo di portare turismo più mesi. I protagonisti della giornata sono stati quindi diversi attori dell'area coinvolti a vario titolo nel settore turistico che attraverso la loro adesione al forum della comunità locale del parco hanno potuto partecipare all'analisi partecipativa e a una diagnosi del mercato turistico dell'area protetta, delle strategie già in atto, delle opportunità dell'impatto dal punto di vista ambientale, economico e sociale. La CEZ rappresenta dunque un'importante occasione di crescita per tutto il territorio e per il tessuto socio-economico che gravita intorno all'area protetta. La nostra priorità è quella, essere ecocompatibili con tutto quello che gira intorno. Poi insieme a tutti gli operatori, con un minimo di sacrificio, noi siamo convinti di poter avere un flusso di gente maggiore a quello che è stato negli ultimi anni. Ci sono tutte le possibilità per risolvere le problematiche che hanno invaso la riserva negli ultimi mesi e non per ultimo la discarica appunto della canale? Sì, anche su quell'alto fronte stiamo rispettando un cronoprogramma con la Regione per la realizzazione delle trince drenanti. C'è stata l'ultima conferenza di servizio, loro ci dicono che per giugno dovrebbero essere realizzate, dovremmo essere capaci a trasformare il negativo dal positivo. C'è tutto qua, riutilizza delle acque, anche noi come consorzio abbiamo già convocato dei tecnici in modo da poter vedere quanta di quell'acqua si può riutilizzare sia nel comparto agricolo che nel comparto ambientale.